È ufficiale, dal 6 agosto non ci sono più ischitani ricoverati in ospedale per il coronavirus. Il dottor Giuseppe Ascione, l'ultimo paziente ricoverato per Covid-19, è stato infatti dimesso. Ne ha dato notizia con soddisfazione lo stesso direttore generale della ASNapoli del Nord, Antonio D'Amore. Giuseppe Ascione è uscito il 6 agosto dall'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dopo essere stato ricoverato per cinque mesi nelle terapie intensive di Pozzuoli ed Ischia. Il dottor Ascione, medico anestesista in servizio all'oretto mare, era entrato in ospedale a Ischia lo scorso 21 marzo con una diagnosi di positività al Covid-19 ed una condizione di salute soddisfacente. Si era ricoverato solo per sottoporsi ad una terapia ospedaliera non effettuabile al domicilio. Dopo pochi giorni però, il suo quadro clinico era precipitato ed era stato trasferito in terapia intensiva. Il suo percorso terapeutico è stato lungo e travagliato. È stato trattato con il tocilizumab, successivamente per ben due volte con il plasma prevelevato da pazienti che avevano già contratto il virus. Finalmente, dopo un mese e mezzo di ospedale, il giorno 12 maggio è risultato negativo al Covid-19. Le sue condizioni tuttavia continuavano ad essere critiche per le altre problematiche conseguenti la malattia e la lunga ospedalizzazione in condizioni critiche. A giugno, Giuseppe Ascione è stato trasferito nella terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Il 6 agosto, dopo 50 giorni di degenza a Pozzuoli, il dottor Ascione è stato dimesso ed indirizzato al percorso di riabilitazione. Faccio i migliori auguri al collega Giuseppe Ascione, ha affermato il direttore d'amore, e ringrazio tutto il personale che ha saputo prendersi cura di lui da Ischia a Pozzuoli. Questo episodio testimonia l'ottimo livello di integrazione che si realizza tra i nostri ospedali e le nostre strutture. Si tratta, dice ancora il direttore, di un lavoro organizzativo che stiamo portando avanti da anni e ci sta dando grandi risultati assistenziali. Grazie.